Le donne della casa Ferragni sono emerse come vere protagoniste durante la settimana della moda, mostrando il loro stile unico e audace. Mentre Valentina è una veterana dell'evento, Francesca e la mamma Marina hanno fatto il loro debutto con grande classe. Marina, la matriarca della famiglia, ha catturato l'attenzione con un tire scuro dalla linea classica, splendidamente decorato, con la doppia G tono su tono. La secondogenita, Francesca, ha seguito le urme della madre con un power sweet blu notte, caratterizzato da un blazer senza reverse, e un cinturone con una fibbia logata che sottolineava la vita. Sorprendentemente, sotto la giacca, ha indossato solo un reggiseno total black, seguendo il trend del momento. Valentina, d'altra parte, ha optato per un look total black, aggiungendo un tocco di classe con il braccialetto ancora, simbolo dell'era di Gucci. La settimana della moda è diventata una vera questione di famiglia, per i Ferragnez. E i loro fan non potrebbero essere più felici di questa straordinaria presenza sulle passerelle.